Il filosofo Giulio Cesare Vanini 400 anni fa fu mandato a rogo per ateismo, senza tuttavia che la sua fine ottenesse la stessa risonanza storica di quella di Giordano Bruno. Pur apprezzato da Hornerlin e Schopenhauer, in Italia è stato rivalutato come pensatore originale solo da poco tempo. Il nostro inviato Mischaruggeri è andato a cercarne le tracce nei suoi luoghi di infanzia, in Salento. La sua opera principale, il Dea Admirandis, è stata subito inserita nell'Indice dei Libri Poibiti. Lui, 400 anni fa, a Tolosa, è stato processato e condannato a rogo per ateismo, bestemmia, impietà e altri eccessi. Poi l'adamnazio memoria lo ha colpito implacabile. A soli 34 anni, al carceriere che lo prelevava per condurlo al patibolo, disse «Andiamo allegramente a morire da filosofo». Vanini è morto come Socrate, come Seneca, come Giordano Bruno. È morto da filosofo, allegramente. Gli hanno strappato la lingua con le tenaglie, lo hanno strangolato con una fune e quindi bruciato. Ma alla fine, il frate carmelitano Giulio Cesare Vanini, diventato prima anglicano e poi filosofo e naturalista, il più bello e il più maligno degli spiriti, ha vinto. La sua voce risuona ancora. Giulio Cesare Vanini occupa un posto molto importante nel processo di laicizzazione dell'Europa che è stato scatenato, innescato dalla decadenza alla fine del Medioevo e della Chiesa Cattolica. È stata la grande sintesi della serie di filosofi italiani della natura rinascimentali che si sono battuti a prezzo del carcere, del rogo e di varie persecuzioni per la laicità, cioè per la sostituzione della teologia con la filosofia, di Dio con la natura. Vanini ha portato col suo scetticismo contro tutte le false credenze, tutte le superstizioni, tutti gli imbrogli che si fanno con l'uso della religione a scopo politico, un contributo fondamentale. Può essere considerato il precursore di Nietzsche perché la natura per lui era la regina e dea dei mortali. Soprattutto la cultura tedesca è considerato un gigante. Schopenhauer l'ha molto esaltato, ha detto che è stato bruciato ma non confutato, era più facile bruciarlo che confutarlo e addirittura Hölderlin, poiché lo ha visto come un eroe del libero pensiero, ha scritto una bellissima lirica per lui. In Italia ha pagato a lungo le accuse di plagio e l'ostilità di Croce Gentile che lo consideravano un ateista interessante soltanto per gli eruditi. Vanini è stato ignorato o stroncato dalla cultura ufficiale del Novecento e ciò per un'accusa di plagio appunto formulata dal suo conterraneo Luigi Corvaglia da Melissano. Un'accusa poi rivelatasi ingiusta e infondata perché in effetti Vanini cita per oltre due terzi delle sue opere, opere di altri pensatori, ma il suo pensiero non è affatto lo stesso delle sue fonti. È un pensiero originale e innovativo, un pensiero che tenta di spiegare la realtà in termini esclusivamente di cause naturali e nega le più importanti varietà della fede, cioè l'esistenza di Dio, l'immortalità dell'anima e soprattutto la veridicità dei miracoli. Ma negli ultimi decenni, con una bibliografia che vanta ormai 10.000 titoli in 50 lingue, è diventato anche profeta in patria per merito di studiosi salentini come Antonio Corzano, Paolo Francesco Raimondi e Mario Carparelli. Del resto, Taurisano, dove nacque in un palazzo di cui resta solo una finestra, recante la data di edificazione, 1578, e due epigrafi poi riprese nelle sue opere, o secondo i più in una casa nell'attuale via Roma segnalata da due targhe, deve a lui la presenza, con una voce ad hoc nel quindicesimo tomo, nell'Enciclopedia di Diderot e d'Alembert. E lui era molto legato alla propria terra. Già l'espressione che si trova nel De Admirandis è estremamente significativa, patria mia, nobilissima, quasi gemma nell'anello del mondo. Non è l'unica espressione che si riferisce al Salento, ci sono molte cose che lo leggano al Salento. Parla del proprio giardino, il meo viridario, dove avrebbe fatte le sue prime osservazioni scientifiche. Parla spesso dei diusi e dei costumi del Salento. Allude spesso anche alle superstizioni. Fosse influenzato da questa luminosità, da questa solarità del Salento. Ed è tutto per questa puntata di TG2 Storie. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima settimana.